L'isola di Gorm è stata testimone di una storia avvincente e travagliata, popolata da creature chiamate Gormiti che hanno lottato per la loro terra e il loro popolo in una lotta senza fine tra il bene e il male. Questa saga, ricca di mitologia e avventura, ha catturato l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo, offrendo un affascinante intreccio di trame e personaggi. Tutto ebbe inizio con il risveglio di Magor, il signore del male, dal suo sonno all'interno del monte Vulcano. Con i suoi guerrieri del magma e della lava, Magor decimò la popolazione pacifica dell'isola, prendendo i loro respiri vitali per nutrirsi. Solo il vecchio saggio riuscì a salvarsi, portando con sé una nuova fonte di potere, l'occhio della vita, generato dalle sue lacrime. La lotta per il controllo dell'isola non conosceva tregua, con Magor e i suoi seguaci costretti a ritirarsi nel monte di fuoco dopo aver ucciso gli abitanti di Gorm. Tuttavia, il desiderio di pace del vecchio saggio lo spinse a creare nuovi gormiti con il potere dell'occhio della vita, dando inizio a una nuova era di speranza e conflitto. Le generazioni successive videro la comparsa della profezia, che annunciava il giorno della scelta, in cui i guerrieri di Gorm avrebbero dovuto scegliere il loro campione attraverso un torneo tra i popoli dell'isola. Ma la minaccia di Magor non si placò, con il ritorno di orrore profondo e l'emergere di nuovi signori del male come Armageddon e Devil Fenix, spinti dalla sete di potere e vendetta. La battaglia per il destino di Gorm raggiunse il culmine quando il vecchio saggio, i tre signori di Gorm e il sommo luminescente si trovarono faccia a faccia nella foresta silente. Qui, il potere delle loro lacrime invocò il popolo della luce, portando una nuova speranza per la pace sull'isola. Ma il male non si arrese facilmente, con Magor che tornò in vita grazie alla fusione con il monte Vulcano, donando poteri potenziati a orrore profondo e agli altri signori del male. La battaglia finale si svolse nella pianura delle nebbie, dove il bene e il male si scontrarono in un duello epico che determinò il destino di Gorm. Nonostante le perdite e i sacrifici, i signori della natura, guidati da Tebi, Jessica, Lucas e Nick, riuscirono a sconfiggere Magor e a porre fine alla sua minaccia una volta per tutte. Grazie al coraggio e alla determinazione dei loro eroi, la pace tornò sull'isola di Gorm, aprendo la strada a un futuro luminoso per il suo popolo.